Luce e gas Devo fare la voltura del gas, anche la voltura della luce Ho guardato i contratti ma non c'è nessuno che te li traduce Così ho fatto più di 40 chiamate per avere mezza informazione Ho deciso comunque che non conviene, forse la migliore soluzione è Cucinare all'abbraccio, inviare segnali di fumo, abbracciarsi più spesso Indossare la tuta da sci, caricare l'iPhone solamente a casa degli altri Mangiare cose crude, sperando di star sempre in salute